Primo evento nazionale anche per le Vespe qui a Resana, Resana accoglie queste centinaia di Vespe con i loro appassionati dei motori, delle due ruote. Più di 500 Vespisti hanno partecipato al nono Vespa Raduno a Resana la scorsa domenica, ecco la novità di quest'anno. L'iniziativa è partita qualche anno fa tra un gruppo di amici, è cresciuta negli anni, adesso si chiama il nono Vespa Raduno di Resana, Memorial Bank Passina e il primo raduno nazionale per il Vespa Camp Resana. D'altra parte se uno scooter è stato prodotto in molti milioni di esemplari dal 1946 ad oggi e ha fatto sognare e viaggiare intere generazioni non può che suscitare grande entusiasmo. Una bella domenica di festa per il nostro comune. Grazie a tutti.